La paura, guide mon passant. Il treno filava tutto vapore nelle tenebre. Mi trovavo solo, di fronte a un vecchio signore che guardava dal finestrino. Nella carrozza, una carrozza della compagnia ferroviaria Pays-Lyon-Mediterranée, proveniente senza dubbio da Marsiglia, c'era un forte odore di fenolo. Notte, il lune, senza un soffio, torrida. Non si vedevano le stelle, e la ventata del treno, lanciato a tutta corsa, ci cettava in viso qualche cosa di caldo, di molle, dopprimente ed irrespirabile. Partiti da Parigi tre ore prima, andavamo verso il centro della Francia senza veder nulla del paese che attraversavamo. D'improvviso fu come un'apparizione fantastica. Due uomini erano ritti, in un bosco, attorno a un gran fuoco. Li vedemmo forse un secondo. Erano, ci sembrò, due pezzenti male in ornese, rossi nel chiarore abbagliante del fuoco, con facce barbute volte verso di noi. E intorno ad essi, come la scena di un dramma, gli alberi verdi, di un verde chiaro e lucente, i tronchi colpiti dal vivo riflesso della fiamma, il fogliame attraversato, penetrato, irrorato dalla luce che vi fluiva. Poi tutto tornò nell'oscurità. Certo, una ben strana visione. Che cosa facevano in quella foresta i due vagabondi? Perché il fuoco in quella notte soffocante? Il mio compagno di viaggio trasse l'orologio e mi disse «Mezzanotte precisa, signore. Abbiamo visto una cosa veramente singolare. Ammese che così era, iniziamo una conversazione, almanaccando chi potessero essere quei due. Malfattori che bruciavano qualche corpo di reato, o stregoni che preparavano un filtro. Non è per cuocere la minestra che si accende un fuoco di quel genere, a mezzanotte in piena estate. Che facevano dunque? Non sapemmo immaginare nulla di verosimile. E il mio vicino si mise a parlare. Era un vecchio, del quale non mi riusciva a determinare la professione. Un originale, certamente, istruitissimo, e sembrava anche un po' squilibrato. Ma chissà quali siano i savi e quali i pazzi, in questa vita nella quale la ragione dovrebbe spesso chiamarsi stupidità e la follia a chiamarsi genio. Diceva, «Sono contento di quel che ho visto. Per qualche minuto ho provato una sensazione perduta, come doveva essere inquietante la terra una volta, quando era così misteriosa. Man mano che si solleva il velo dell'ignoto, l'immaginazione degli uomini si immiserisce. Non vi pare, signore, che la notte sia assai vuota ed un buio assai volgare da quando non vi sono più apparizioni. Si dice interiormente, nulla di più fantastico, più nessuna strana coincidenza, tutto l'inesplicabile è spiegato. Il sovrannaturale è scema, come un lago che è un canale prosciughi. La scienza di giorno in giorno allontana i limiti del meraviglioso. «Ebbene, io, signore, appartengo alla vecchia razza che ama credere. Appartengo alla vecchia razza ingenua, abituata a non capire, a non cercare, a non sapere, a sue fatte e i misteri che ci attorniano. La vecchia razza ingenua che si nega alla semplice e netta verità. Proprio, signore, si è immiserita l'immaginazione, sorprendendo l'invisibile. Oggi la terra mi appare come un mondo abbandonato, deserto e nudo. Se ne sono andate le credenze che lo rendevano poetico. Quando esco la notte, come vorrei rabbrividire di quell'angoscia per la quale le vecchie donnette si fanno il segno della croce rasentando i muri dei cimiteri. E gli ultimi superstiziosi fuggono dinnanzi agli strani vapori palustri e ai fantastici fuochi fatui. Come vorrei credere a quel qualcosa di vago e terrificante che ci immaginiamo di sentir passare nell'ombra. Come l'oscurità della sera doveva essere cupa, terribile un tempo, quando era piena di esseri favolosi, sconosciuti, vagabondi, malvagi, dei quali non si potevano indovinare le forme, la cui apprensione agghiacciava il cuore, la cui occulta potenza oltrepassava i limiti del nostro pensiero, e la cui offesa era inevitabile. Scomparendo il soprannaturale, anche la paura autentica è scomparsa dalla terra, poiché non si ha veramente paura che di quanto non si comprende. I pericoli visibili possono allarmare, turbare, spaventare. Che cos'è questo in confronto della convulsione che agita l'animo quando si pensa che si incontrerà uno spettro errante che si subirà l'abbraccio di un morto, che si vedrà slanciarsi contro di noi una delle spaventevoli bestie inventate dal terrore degli uomini. Da che non sono più abitate da spiriti, le tenebre mi sembrano chiare. La prova è il fatto che se ci trovassimo improvvisamente soli in quel bosco più che all'apprensione di un qualsiasi pericolo reale saremmo ossessionati dall'immagine di due esseri singolari apparsi ci poc'anzi nel lampo del loro fuoco. Ripetè, non si ha veramente paura che di quanto non si comprende. E ad un tratto mi tornò il ricordo di un episodio raccontatoci una domenica da Turgenev in casa di Gustave Flaubert. Non so se gli lo abbia poi inserito in qualche suo libro. Turgenev ci disse quel giorno non si ha veramente paura che di quanto non si comprende. Seduto piuttosto abbandonato in un'ampia poltrona, le braccia pendenti, le gambe allungate inerti, la testa interamente canuta. Annegava in quel gran flutto di barba e di capelli argentei che gli dava l'aspetto di un padre eterno o di un fiume Dovidio. Parlava lentamente con una certa pigrizia che conferiva un incanto alle frasi e una certa esitazione della lingua un po' tarda che sottolineava l'esattezza colorita delle parole. L'occhio chiaro spalancato rifletteva come l'occhio di un bimbo tutte le emozioni del suo pensiero. Ti raccontò quanto segue? Un giorno da giovanotto e gli cacciava in una foresta russa. Aveva camminato tutto il giorno e verso la fine del pomeriggio era giunto in riva a un calmo corso d'acqua che scorreva sotto gli alberi, tra gli alberi, pieno d'erbe galleggianti, profondo, limpido e freddo. Il cacciatore fu colto da un bisogno imperioso di gettarsi in quell'acqua trasparente. Si svestì e si lanciò nella corrente. Era un giovanotto grande e grosso, robustissimo e nuotatore ardito. Si lasciava galleggiare lentamente, tranquillo nell'animo, sfiorato dall'erbe e dalle radici, felice di sentir scivolare leggermente le liane contro la sua carne. D'improvviso una mano gli si posò sulla spalla. Egli si voltò con uno scatto e scorse un essere spaventoso che lo guardava avidamente. Somigliava a una donna o a una scimmia. Aveva una faccia enorme, rugosa che faceva smorfie e rideva. Due cose innominabili, due mammelle di certo le galleggiavano davanti mentre i capelli smisurati, arruffati e arrugginiti dal sole le circondavano il viso e le sventonavano sulla schiena. Turgenev si sentì trafiggere dalla schifosa glaciale paura delle cose sovrannaturali. Senza riflettere, senza pensare, senza comprendere si mise a nuotare disperatamente verso la riva ma il mostro nuotava ancora più veloce e gli toccava il collo, la schiena, le gambe dando in piccole risatine di gioia. Pazzo di spavento, il giovanotto raggiunse finalmente la riva e si slanciò nel bosco a tutta velocità senza nemmeno pensare a riprendere gli abiti e il fucile. Un essere spaventoso lo seguì correndo come lui e sempre brontolando. Al termine delle forze paralizzato dal terrore il fuggiasco stava per cadere quando un fanciullo che custodiva alcune capre accorse armato di frusta e si mise a colpire l'orrenda bestia umana che fuggì gridando di dolore. Turgenev la vide sparire tra gli alberi simile alla femmina di un gorilla. Era una povera pazza che da più di trent'anni viveva in quel bosco della carità dei pastori e passava metà del giorno nuotando nel fiume. Il grande scrittore russo concluse «Mai, vita mia, ebbi tanta paura semplicemente perché non avevo capito che cosa potesse essere quel mostro. Il mio compagno di viaggio al quale avevo ripetuto l'avventura annui. Non si ha paura che di quanto non si comprende. Non si prova veramente quell'orrenda convulsione dell'animo che si chiama spavento se non quando alla paura si mescola un po' del terrore superstizioso dei secoli passati. Anche io ho provato questo spavento in tutto il suo orrore e per una cosa tanto semplice tanto sciocca che oso appena raccontarla. Viaggiavo in Bretagna solo soletto a piedi. Avevo percorso il Finester le lande desolate le terre nude dove il giunco è l'unica cosa che cresce accanto a grandi pietre sacerdotali pietre magate. Il giorno prima avevo visitato la sinistra punta del Ras questa fine del vecchio mondo dove si battono eternamente due oceani l'Atlantico e la Manica. Avevo la mente piena di leggende di storie lette o raccontate a proposito di quelle terre di credenza e di superstizioni e camminavo da Penmark verso Ponte Labè di notte conoscete Penmark un lido piatto piatto senza eccezione bassissimo più basso del mare si direbbe lo si vede dovunque grigio e minaccioso quel mare irto di scogli bavosi come bestie infuriate. Avevo pranzato in una bettola di pescatori e ora camminavo sulla strada dritta fra due lande era buio fitto di quando in quando simile a un fantasma eretto una pietra druidica sembrava mi guardasse passare e a poco a poco mi sentivo invadere da una vaga apprensione di che? Proprio non lo sapevo vi sono certe sere nelle quali ci pare di essere sfiorate da spiriti l'anima rebrividisce senza ragione il cuore palpita nel timore confuso di quel qualcosa di invisibile che io rimpiango tanto quella strada mi sembrava lunga lunga e interbinabilmente deserta nessun rumore fuorché il fragore dei flutti lontano alle mie spalle e a tratti quel rumore monotono e minaccioso sembrava vicinissimo così vicino che pareva le onde mi fossero alle calcagne e corressero attraverso i campi con la loro fronte di schiuma e io avevo voglia di fuggire di fuggire a gambe levate per sottrarmi ad esse il vento un vento basso che soffiava a raffiche e faceva fischiare i giunchi intorno a me e per quanto camminassi veloce avevo freddo alle braccia e alle gambe un brutto freddo d'angoscia oh come avrei voluto incontrare qualcuno era così buio che ora distinguevo appena la strada ed improvviso davanti a me lontanissimo udì rotolare qualche cosa pensai no una carrozza poi non di più nulla un momento dopo percepì distintamente lo stesso rumore e più vicino non vedevo nessun lume però ma dicevo tra me non hanno fanale c'è da stupirsene in questo c'è da stupirsene in questo paese di selvaggi il rumore si interruppe ancora una volta poi riprese era troppo esiguo perché si trattasse di una carretta ed altronde non udivo il trotto del cavallo cosa che mi stupiva perché la notte era calma cercai che cosa sarà si avvicinava veloce velocissimo certo udivo soltanto una ruota nessuno scalpitì o di zoccoli o di piedi nulla di che cosa si trattava era vicino vicinissimo mi gettai in un fosso con un movimento di paura estintiva e vidi passare accanto a me una carriola che correva sola nessuno la spingeva già una carriola sola il cuore mi balzava con tanta violenza che mi accasciai sull'erba e ascoltai turbinare la ruota che s'allontanava e se ne andava verso il mare non osavo più alzarmi né camminare né fare un movimento perché se la carriola fosse ritornata se mi avesse inseguito sarei morto di terrore stentai a lungo per riprendermi e feci il resto della strada con tale angoscia nell'animo che il minimo rumore mi troncava il respiro non è sciocco tutto ciò ma che paura riflettendo più tardi ho compreso senza dubbio un ragazzo scalzo spingeva la carriola io invece cercavo la testa di un uomo ad altezza normale voi mi capite quando si ha già in mente un brivido di soprannaturale una carriola che corre da sola che paura da cui un istante poi riprese vedete signore noi stiamo assistendo a uno spettacolo curioso e terribile questa invasione del colera sentite l'odore del fenolo di cui queste carrozze sono sature vuol dire che su è presente chissà dove bisogna vedere Tolone in questo momento davvero si sente che è presente lui e non è già la paura di una malattia che fa impazzire quella gente il colera è un'altra cosa è l'invisibile è un flagello d'altri tempi dei tempi passati una sorta di spirito malefico che ritorna e che ci stupisce quanto ci spaventa poiché almeno così sembra appartiene alle età scomparse i medici mi fanno ridere col loro microbo non è un insetto quello che terrorizza gli uomini al punto che si buttano dalla finestra è il colera che è l'essere inesprimibile e terribile venuto dal fondo dell'oriente attraversate Tolone nelle sue strade si balla perché ballare in questi giorni di morte nella campagna in vicinanza della città si lanciano fuochi d'artificio si accendono fuochi di gioia le orchestrine suonano ariette allegre in tutte le passeggiate pubbliche e questo perché egli è lì perché lo sfida non c'ha il microbo ma il colera e si vuole essere spavatti di fronte a lui come di fronte a un nemico nascosto che ci attende in agguato è per lui che si balla si ride si grida si accendono quei fuochi si suonano quei waltzer per lui lo spirito che uccide e che sentiamo presente dovunque invisibile minaccioso come uno di quegli antichi geni del male che i sacerdoti barbari esorcizzavano